La ricerca della Fondazione Corazzi è quello che hanno scritto qui. Sfigati ma non troppo i giovani mestrini e veneziani che rappresentano il 24% della popolazione dell'intero comune. Dall'amministrazione locale questi giovani vogliono anche più spazio e più attenzione. Il problema è che ovunque mettiamo piede per tentare di dipingere il comune ci mette i bastoni tra le ruote. Allora questa è una buona occasione per chiedere dateci spazio, noi vogliamo solo dipingere. Esatto e non fare vandalismo come scrivono spesso i giornali oppure dicono in televisione.